Ciao carissimi e carissimi, sono qua con Enrica della Agenzia Immobiliare Reagency di Montecchio Maggiore. Quindi non siamo poi così vicine vicine. Enrica ci chiama tramite un ulteriore collega che sa come lavoriamo, voi li abbiamo già lavorato insieme, quindi dà le nostre referenze e da lì parte una collaborazione. Enrica nonostante sia di Montecchio Superiore ha una cliente che ha un immobile da vendere e di conseguenza ci chiede la collaborazione. Noi diamo la nostra massima disponibilità, ci siamo conosciute oggi, non c'eravamo conosciute prima e com'è andata questa esperienza? I clienti come sono rimasti? Felicissimi e anche noi perché abbiamo stretto una bellissima collaborazione quindi crediamo pienamente che il win-win di noi colleghi professionisti porta al vantaggio per tutti sia per il venditore e per l'acquirente. Quindi avanti tutti i colleghi con le collaborazioni. Grazie, alla prossima. Grazie.